Buongiorno Beppe, come va? Ciao, ciao Sergio, bene, bene grazie. E l'altra volta avevamo fatto un video, il primo video che abbiamo fatto con te in una passeggiata dei camminatori senza pretese e molte persone che l'hanno visto mi hanno chiesto se ne facevi un altro, se iniziavamo a fare altri video con te e io ti ho chiamato ieri ed eccoci qua. Certo, certo, io sono disponibile, per me parlare di queste cose è una gioia. Perché adesso c'è qualcosa che gira, un'energia in questo periodo, forse pure dopo la pandemia che è cambiata, ci sono molte persone disponibili, aperte a queste cose. Sì, sì, la pandemia ha dato un bel calcio nel sedere a tutti quanti, spingendoli a uscire dalla zona di comfort. Dopodiché alcuni sono rimasti dove erano e invece altre persone si sono proprio mosse e hanno cominciato così a mettersi in discussione, a fare delle cose diverse. Allora, chi non ha visto il primo video di Beppe, consigliamo di andarlo a vedere e poi lo metteremo in descrizione sotto il video. E oggi inizieremo questo ciclo di chiacchierate con Beppe e vedremo, insomma, come vedremo questa, come andrà, se sarà apprezzata dal pubblico della Centrale Naturale. E oggi con Beppe pensavamo di iniziare con... Cosa ci impedisce di essere liberi? Forse potremmo dire che ognuno di noi desidera la libertà e contemporaneamente la cosa che ci fa più paura è la libertà. Perché? Perché tutto ciò che ci dà sicurezza a livello psicologico, non parlo della sicurezza fisica, ma tutto ciò che ci dà sicurezza psicologicamente, se ci fai caso, se ci facciamo caso, quella stessa cosa ci leva libertà. Per esempio, se io mi metto dentro una casa con le sbarre, certo che sono più sicuro, no? Con le sbarre alle finestre, certo che sono più sicuro, ma sono meno libero di guardare fuori, la luce è meno libera di entrare. Per cui c'è questo dilemma di cui spesso non ci si accorge, e cioè del fatto che più cerchiamo la sicurezza psicologica e meno siamo liberi. Allora, questa aspirazione alla libertà, che probabilmente è il bisogno e l'aspirazione più grande di ogni uomo, in qualche maniera è contrastata dal nostro livello di bisogno di sicurezza psicologica. Per cui la libertà fa paura perché per essere liberi dobbiamo lasciare tutte le nostre sicurezze. Nella misura, meglio, nella misura in cui le lasciamo, acquisiamo un certo grado di libertà. E ci puoi fare un esempio di cosa, cioè di sicurezza psicologica che dobbiamo... Ma certo, certo, per esempio, sono in un rapporto di coppia che non mi soddisfa, non mi soddisfa completamente. Cioè se proprio mi guardo dentro, mi guardo dentro, preferirei di no. Però che cosa succede? Che per lasciare io... Allora, se voglio essere libero e quindi essere libero magari di trovare un rapporto che mi soddisfi completamente, devo lasciare quello in cui sono, ma quello in cui sono, sebbene non mi soddisfi, però è una zona di comfort. Per cui, per poter essere libero di vivere un rapporto di coppia, di scegliermi un rapporto di coppia che veramente mi soddisfi, devo lasciare il conosciuto e cioè questo rapporto di coppia che non mi soddisfa completamente. Affinché il nuovo possa manifestarsi, il vecchio deve morire. E così in tante cose, insomma. E certo, la nostra vita è tutta così. Ecco perché la libertà fa paura, perché la libertà non permette lacci, la libertà non permette vincoli. Ma io sto parlando di lacci e vincoli psicologici, perché la libertà non è che impedisca di amare. Assolutamente no, anzi, la forma più elevata di amore è quella nella quale, amore diciamo di un'altra persona, è quella nella quale noi ci adoperiamo affinché l'altra persona trovi la sua libertà. paradossalmente, quando amiamo nella forma più elevata, forse si potrebbe dire la forma suprema di amore umano, è quella nel quale ci adoperiamo affinché l'altra persona trovi la libertà, anche se questo significa che si allontana da noi. Ah, ho capito, sì. Sì, no? Esatto. E questa cosa normalmente, per esempio, in un rapporto di coppia non accade, perché in un rapporto di coppia, nel momento che l'altro si gira anche solo di un momentino e guarda da un'altra parte, ci prende paura. Quando dico si gira intendo che ci sembra che sia interessato a qualcun altro, ci prende paura. Quindi siamo, come dire, condizionati dalla nostra paura e quindi non siamo in grado di aiutare l'altro a trovare la propria libertà. Ma ovviamente è un rapporto di coppia di questo genere, è un rapporto di coppia in cui, in cui quindi non c'è la vera libertà data all'altro e questo rapporto di coppia è ovvio che poi, come dire, manifesta dei problemi, no? E perché c'è un vincolo. Noi non lasciamo l'altra persona completamente libera di fare quello che sente, quello che vuole, quello che il suo essere le chiede di fare. Perché nel momento che lui fa determinate cose che noi interpretiamo come possibilità di allontanarsi da noi, ci irrigidiamo e quando abbiamo paura, in un rapporto di coppia, che lo vogliamo o meno, diventiamo manipolativi. Che lo vogliamo o meno. A volte siamo consapevoli di esserlo, altre volte no. Ma quando abbiamo paura, in un rapporto di coppia, paura che l'altra persona ci lasci, comunque l'attitudine manipolativa c'è, affinché questa attitudine scompaia c'è bisogno che noi ci sentiamo liberi e che quindi sentiamo liberi, ci sentiamo liberi, no? E quindi, e che quindi lasciamo l'altra persona la libertà. Non è facile però. E non ci irrigidiamo. Certo che non è facile, ma è per questo, è per questo che dicevo che la libertà è quello che ognuno di noi vuole e pochissimi di noi raggiungono. Perché è per arrivare ad essere liberi bisogna passare attraverso tutte le proprie paure. Ah. E questa è la ragione per la quale tutti la desideriamo e pochi l'abbiamo. Perché quante sono le persone che passano attraverso tutte le proprie paure, vanno oltre, smettono di essere condizionati dalle proprie paure. Evidentemente, da questo punto di vista, è logico, è normale che la paura sia il bene più prezioso. Cioè, scusami, che la libertà sia il bene più prezioso. Perché la libertà è quella cosa che accade quando non abbiamo più paura. E quindi è la cosa più preziosa. Perché quando non abbiamo più paura siamo nel benessere. Non siamo più condizionati. Mi stavi chiedendo qualcosa? No, dico, è comunque, è rischioso, insomma, no? Iniziare questa... Ma vivere è rischioso. Vivere è rischioso. Ovviamente questi sono rischi psicologici, no? Non stiamo parlando di rischi fisici in cui è proprio, diciamo, il nostro corpo è messo in pericolo. Stiamo parlando di rischi psicologici, certo. Ma vivere è così? Guarda caso, nella misura in cui noi accettiamo il rischio, la nostra vita prende gusto. Nella misura in cui noi usciamo dalla nostra zona di comfort, cominciamo a vivere, no? Questo è un vecchio adagio che conosciamo tutti. È vero, è vero. E comunque, come dicevi te prima, è importante chiarire questo aspetto, no? Non dobbiamo distinguere l'aspetto psicologico dall'aspetto fisico-materiale. Nel senso che uno non è che deve diventare nasceta, come San Francesco, che lascia tutti i beni. Cioè, è giusto avere pure una casa, un po' di soldi, la macchina. Cioè, non è che devi abbandonare il lavoro subito. No, domani lascia il lavoro perché mi sta sul cazzo qualcuno. No, no, no. Certo che no. Però nella misura in cui la nostra vita è condizionata dalle paure, in quella misura noi non siamo liberi e anche la nostra vita è meno intensa, è meno viva, è meno piena di stupore, è meno piena di vita, è un po' più grigia, non è tanto colorata, è un po' più grigia, no? Sì, sì, hai ragione. Il primo esercizio da fare, che ci consigli? Beh, abbiamo parlato di paure. Vediamo un po' meglio che cosa... La paura è sicuramente la causa principale della nostra mancanza di libertà. Ma questo perché? Perché nel momento che noi percepiamo paura, in una frazione di secondo, quello che accade normalmente è che in una frazione di secondo attuiamo una strategia di fuga dalla paura. Dico in una frazione di secondo. Normalmente questa cosa accade in maniera inconscia. Noi istintivamente, esattamente come quando il dito si avvicina a una fonte di calore intensa, noi istintivamente la ritraiamo alla stessa maniera quando percepiamo nel nostro campo, cioè avvertiamo l'arrivo della paura, istintivamente, istantaneamente ci ritraiamo. Ma questo ritrarsi è una fuga. Allora, innanzitutto, ripeto, sto parlando delle paure psicologiche. Perché le paure fisiche è tutto diverso. Nelle paure fisiche c'entra quello che c'entra la biologia del corpo. E il corpo è programmato per la sopravvivenza ed è necessario che sia così. Quindi io non sto parlando delle paure fisiche, che è tipo, non lo so, andare ai 200 all'ora in autostrada, no? È normale che non abbia paura, no? Perché c'è un oggettivo rischio, un rischio fisico. No, io sto parlando delle paure psicologiche, perché queste paure, non c'è niente che fisicamente ci minaccia. Allora, quello che succede è che nel momento che noi ci ritraiamo dalla paura, questa paura si rinforza. E la prossima volta che noi ci troveremo in una situazione in cui questa paura si attiva, sarà leggermente più forte. E quindi il fatto di essere condizionati da quella paura diventerà più forte. Saremo più condizionati da quella paura. È un po' come il bambino, quando siamo, quando abbiamo tre anni e siamo in una stanza buia e c'è dall'altra parte della stanza c'è una cosa che vogliamo andare a prendere. E cioè, se rimaniamo con quella paura, non se ne andrà mai. Allora, quando invece abbiamo il coraggio di andare dall'altra parte e di prendere magari il giocattolo che vogliamo, perché è la stanza buia, magari quando arriviamo dall'altra parte, la paura se n'è andata. E tra l'altro tutto quello che temevamo non era vero. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Allora, i bimbi, i bimbi non hanno strutturati questi meccanismi di, diciamo, fuga psicologici. Questi meccanismi psicologici non sono strutturati, non hanno preso consistenza. E quindi per un bimbo è facile, come dire, uscire dalla zona di comfort. Lo fa continuamente e meno male. Pensate cosa sarebbe un bimbo se avesse paura, se una volta che cade, avesse paura di cadere e non provasse più a camminare. Saremmo tutti sulla sedia a rotelle, no? Allora, però quell'attitudine, pensate per esempio al bimbo che addirittura gioca con la paura. Avete presente, no? Hai presente che il papà lo prende, lo abbraccia, lo solleva, lo lancia in aria e lo riprende, no? Anche solo poco, no? È il gesto. E il bambino si mette a ridere, ha paura e dice papà ancora, ancora, ancora. Gioca, gioca, gioca con la paura. Non scappa via. E guardate i cambiamenti prodigiosi, guarda, i cambiamenti prodigiosi che ha un bambino nel suo sviluppo. I bimbi cambiano da un giorno all'altro. Ovviamente c'è anche un aspetto biologico, no? Ovviamente crescono, c'è un sacco di trasformazioni. Ma dal punto di vista psicologico anche lui si trasforma, acquista forza, si espande nella sua coscienza, nella sua consapevolezza. Gran parte di questo è perché lui non rimane nella zona di comfort. Lui esce dalla sua zona di comfort continuamente. Certo, lì c'è anche la biologia, c'è una forza immensa che anima un bimbo e che lo spinge a crescere, no? È vero, è un po' di quell'aspetto di propulsione, di propulsione verso l'evoluzione, verso lo sviluppo, verso la crescita. Nell'adulto un po' diminuisce, ma diminuisce un po'. Tutto il resto glielo aggiungiamo noi con i nostri meccanismi di protezione. Meccanismi di protezione per non uscire dalla nostra zona di comfort, no? Per cui, tornando alla paura, quando noi percepiamo paura, invece di scapparne quasi istantaneamente, una possibilità che abbiamo è quella di stare con la paura. E vada bene, quando facciamo questa cosa qui, è un po', sembra un po' come sedersi sulla braccia ardente, perché ci rendiamo conto che l'ultima cosa che vorremmo fare è quella là. Non è un caso che istantaneamente tendiamo a scappare dalla paura, perché è un po' come sedersi su un bracciere ardente. Però questa è solo un'impressione, perché nel momento che lo facciamo è vero che ci sono delle sensazioni sgaradevoli, ma non ci accade nulla, non muoriamo, non perdiamo conoscenza, nessuno ci viene a minacciare con la pistola. La paura è solo un grande gioco psicologico. Se stiamo con la paura è come quando metti della carne sulla braccia ardente e il fuoco si porta via tutto quello che non è essenziale. Quando noi rimaniamo con la paura, quello che succede è che questa perde consistenza. Nella misura in cui noi stiamo lì, con lei, in sua compagnia, addirittura ne siamo curiosi, in quella misura la paura perde l'intensità. Questo esercizio è un esercizio di una semplicità estrema. Estrema perché quando io percepisco la paura e scappo sto facendo qualcosa. Invece in questo caso è ancora più semplice. Quando percepisco la paura rimango là, non faccio nulla. Cosa c'è di più semplice di questo? Un'altra cosa interessante è che quando facciamo così noi smettiamo di rinforzare quel meccanismo che dà solidità all'ego. L'ego, in realtà, l'ego non esiste. In realtà l'ego è semplicemente una stratificazione di abitudini che abbiamo. Una di queste abitudini, forse l'abitudine principe, è quella di fuggire dalle paure e da ciò che percepiamo spiacevole. Nel momento che noi, quando c'è la paura, stiamo lì, non stiamo rinforzando questa abitudine dell'ego. Lo stiamo indebolendo. Quindi l'ego diminuisce la presa su di noi. Stiamo andando verso la libertà. La libertà è poi solo questo. La libertà è poi, come dire, essere liberi di fare quello che vogliamo, ma per essere liberi di fare quello che vogliamo non possiamo essere condizionati. Allora, per decondizionarci dalla paura, questo è l'esercizio più utile. Ovviamente a volte non puoi metterti lì e bloccarti e non fare niente perché senti paura, no? In certe situazioni non lo possiamo fare. Però in quelle situazioni in cui c'è movimento, in cui c'è azione, noi fuggiamo dalla paura attraverso il movimento e le azioni. Quindi questo vuol dire che anche in quella situazione, e cioè in cui non mi posso bloccare e fare questa specie di meditazione, cioè di porre l'attenzione proprio in quello che c'è dentro di noi, possiamo comunque non scappare dalla situazione, possiamo stare là, no? Sì, osservare. Osservare, stare con quello, non ritirarci, non scappare in ritirata fisicamente, perché stiamo parlando di azione. Possiamo stare là, possiamo vivere questa cosa, così come il bambino attraversa la stanza che è buia perché vuole arrivare al giocattolo a dispetto della paura. Noi possiamo attraversare questa esperienza, la possiamo attraversare, possiamo vedere dove ci porta, possiamo essere curiosi, stare in questa situazione che ci causa paura e vedere dove ci porta. Quando facciamo questa cosa, questo è un enorme gesto di amore verso noi stessi. È il più grande gesto di amore che possiamo fare verso noi stessi. Oserei dire che questo è un gesto sacro. Se lo facciamo con l'intento di diventare liberi, quella cosa diventa sacra. Perché la libertà è amore, ma A con la maiuscola. Questa forma di libertà è la parte divina che c'è in noi. L'amore, questo amore con la maiuscola, è la parte divina che c'è dentro di noi. Per cui noi stiamo adoperandoci per andare in quella direzione. Quel gesto diventa un gesto sacro. Fatto con questa intenzione diventa un gesto sacro. Ovviamente ci possono essere delle altre intenzioni, io sto parlando di questa intenzione. L'intenzione è la cosa più importante. Quando noi facciamo qualcosa, la cosa più importante in quello che facciamo non è il gesto fisico, l'atto fisico, ma l'intenzione che c'è dietro. Piccola parentesi. Un coltello infilato nella pancia di una persona può essere una cosa fatta da un assassino o può essere una cosa fatta da un medico in una situazione d'emergenza per salvare la vita di una persona. Il gesto è lo stesso. L'intenzione è diversa. E ovviamente il significato di quel gesto cambia completamente. E la differenza non è nel gesto, ma è nell'intenzione che c'è dietro. Tornando quindi a quello che dicevamo noi trasformiamo i nostri gesti in qualcosa di sacro quando dietro i nostri gesti, le nostre azioni, c'è questa intenzione, questa aspirazione, questo anelito verso la libertà. Alla stessa maniera quando noi aiutiamo, facilitiamo, incitiamo le persone a cui vogliamo bene ad essere libere, stiamo facendo qualcosa di sacro. Stiamo applicando, stiamo dando forma alla forma più elevata dell'amore. Ovviamente l'amore non è possesso, non è possesso. Questa è un'altra cosa. Spesso confondiamo l'amore con il possesso, ma ovviamente sono due cose molto diverse. Sì, sì, è tutto un percorso da capire perché ci attacchiamo sempre, pure tra amici, coppia, rapporto di coppia, pure educazione nell'ambito educativo, cioè è tutto quello, insomma la libertà è quello che dopo ti fa crescere veramente nell'amore e nella spiritualità più elevata. E guarda bene, quando noi siamo liberi permettiamo agli altri di esserlo. Per esempio, se noi siamo in contatto con il nostro sentire più profondo, siccome la vita è cambiamento ed è cambiamento continuo, a volte il nostro sentire più profondo può cambiare e quindi anche se noi abbiamo detto A, abbiamo affermato A, nel momento in cui il nostro sentire cambia e noi affermiamo B, per noi è perfetto. Abbiamo, magari, abbiamo anche dimostrato un'incoerenza, però è un'incoerenza rispetto a quello che avevamo affermato prima, ma se il nostro, allora diciamo da un punto di vista esterno stiamo diventando incoerenti, da un punto di vista interno invece la coerenza c'è soltanto se tu rimani allineato al tuo sentire più profondo e quindi agisci in funzione del tuo sentire più profondo e quindi possiamo anche, come dire, dare una svolta, una sterzata di 180 gradi alla nostra vita se questo è quello che arriva dal nostro sentire più profondo. Nel momento che noi siamo in grado di fare questo, quando lo fanno gli altri, lo accettiamo. Non cominciamo a dire eh però tu l'altro giorno hai detto che adesso invece guarda cosa stai facendo. No, no. Nel momento che noi rispettiamo il nostro sentire e siamo coerenti con il nostro sentire, quello più profondo, allora diventa naturale fare lo stesso con gli altri. Vedi bene come la libertà che diamo agli altri è un riflesso della libertà che noi abbiamo e che noi siamo in grado di esercitare nella nostra vita. Eh sì, sicuramente. tenendo sempre presente che essendo esseri umani abbiamo tutti dei limiti perciò che si rifà quello che hai detto te adesso. Cioè io accetto anche in te qualcosa che mi ha dato fastidio perché so che sei un essere umano come tu faresti con me. Casomai te lo dico, dico guarda mi ha dato fastidio sta roba. Ci sa pure questo? Certo, certo. È una cosa importante questa. Ognuno di noi ha i propri limiti, infatti. Per cui quello che io sto dicendo, sebbene tutto quello che sto dicendo a me sembra come dire qualcosa di non scontato ma mi sembra che la vita funziona così la vita è questo. queste sono delle leggi sono delle leggi universali questa è la legge dell'amore nonostante questo questo non significa che allora adesso che so questo sconvolgo tutta la mia vita in tutti gli ambiti. No! È giusto che ognuno faccia i cambiamenti che sono proporzionati alla forza e alla capacità che ha in quel momento lì. se e quindi è bene cominciare dalle piccole cose è un muscolo i muscoli il nostro corpo non è che solleva 100 kg così cioè se vogliamo arrivare a sollevare 100 kg è bene che ci abituiamo abituiamo il nostro corpo allo sforzo fisico diamo al corpo la possibilità di adattarsi e di prendere forza per cui è normale ed è giusto che ci sia una progressività se noi vogliamo fare un cambiamento molto importante nella nostra vita è bene farsi la domanda sono in grado di farlo? La forza psicologica che ho è sufficiente per farlo? Se non è sufficiente per farlo posso posso attendere no? posso cominciare a saltare l'asticella un po' più bassa se salto un'asticella un po' alta posso farmi male o posso fare male alle altre persone se noi cerchiamo di fare qualcosa per la quale non siamo pronti possiamo diventare maldestri e quindi fare male anche involontariamente alle altre persone sì sì mi rendo conto comunque se qualcuno vuole fare delle domande a Beppe può scrivere sotto il video le domande che dopo le andremo a leggere poi dopo metteremo anche il canale di Beppe e altri insomma e altri suoi riferimenti certo certo io questo lo pubblicherò sul mio canale e niente insomma molto interessante tutta sta roba è tutto un percorso un percorso che ci porta verso la libertà ed è bello pure confrontarsi con gli altri o lo viviamo tutto da soli no è fondamentale confrontarsi con gli altri è fondamentale la libertà è il bene supremo non c'è niente di più importante ma quanto tempo spendiamo a rifletterci a guardarla a vedere che cosa ci impedisce di essere liberi quanto tempo riflettiamo su questo che è il bene supremo e quindi è importante farlo da soli farlo anche con gli altri così come lo stiamo facendo io e te in questo momento sì bello interessante perché dopo insieme pure riesci a capire meglio delle dinamiche no? sì c'è un antico proverbio cinese che dice se io do un oggetto a te e tu dai un oggetto a me alla fine io e te abbiamo un oggetto a testa se io do un'idea a te o un punto di vista a te e tu dai un'idea o un punto di vista a me alla fine ognuno di noi ha due idee e due punti di vista quindi il confronto è sempre arricchimento è sempre arricchimento ovviamente con la libertà di accettare o rifiutare i punti di vista degli altri no? ci mancherebbe il libero arbitrio e deve rimanere visto che parlavamo di libertà è evidente no? questo che ognuno di noi deve sentirsi libero di fare quello che per lui è vero no? sì questa è la prima delle attitudini nell'esercitare la libertà la prima cosa che una persona libera fa è onorare la propria verità qualsiasi essa sia onorarla onorarla perché è quello che siamo in quel momento questo è vero per noi guarda cosa fanno i bimbi i bimbi onorano la loro verità ogni momento anche se stanno sbraitando per un lecca lecca non c'è dietro il pensiero eh ma sono ridicolo in quello che sto facendo no stanno onorando la loro verità con la massima serietà questa attitudine è grandiosa questa attitudine è grandiosa questo è un aspetto della libertà perciò noi adesso siamo quasi come quel bambino che descrivevi te che il padre lo butta in aria dobbiamo un po' lavorare sulla paura e poi pure vincere un po' quella brutta cosa che sono i giudizi sia nostri che degli altri insomma quello pure che viviamo molto no? in questo nel contesto sociale certo certo questo è un argomento da da come dire in cui riflettere un argomento da investigare quello del giudizio infatti questo è un altro aspetto no? nella misura in cui noi giudichiamo noi stessi perdiamo di libertà è evidente perché ci stiamo mettendo dentro delle gabbie il giudizio è una gabbia no? e se noi giudichiamo noi stessi che sia un giudizio severo no? indipendentemente no? perché se noi giudichiamo noi stessi per esempio degli esseri estremamente intelligenti nel momento che poi magari facciamo una figura una figura schifosa allora quel giudizio pesa su di noi no? e quindi questo è un altro aspetto e questo merita un approfondimento sicuramente merita un approfondimento ok beh per questa la lasciamo così così vediamo pure le reazioni delle persone sicuramente piacerà a me è piaciuto tanto e dopo approfondiremo con altri argomenti anche con risposte a domande che ti verranno fatte va bene va bene ok ok ciao grazie 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 a te ciao 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 ciao